Un avvio di settimana dolcissimo per la Virtus Francavilla che si è ritrovata alla nuova Red Arena dopo la bella vittoria di Avellino, la prima esterna in questo campionato, per preparare al meglio la partita di domenica contro il Potenza, cresce l'attesa, per conoscere quelle che sono le condizioni di Cosimo Patierno, l'esito degli esami strumentali verrà reso noto in queste ore, si spera che il problema muscolare accusato al partegno non sia di grave entità da comprometterne questo finale di stagione che era stato uno dei motivi dell'esclusione iniziale contro il Crotone, Sicuramente però salterà la gara contro i Lucani e non sarà l'unica assenza pesante in casa bianca azzurra per mano del giudice sportivo, infatti costretti a un turno di stop anche gli squalificati Avella, Idda e Pierno, facile dunque immaginare un ritorno dal primo minuto a destra di Cisco con Solcia nel terzetto difensivo e Maiorino accanto a Murillo in avanti, tra i pali invece sarà l'esordio assoluto in campionato per Romagnoli visto all'opera e autore di grandi parate solo nel match di Coppa e corsi e ricorsi storici. Proprio contro il Potenza